Perché è importante che la diagnosi di malattia di Fabri venga effettuata il più precocemente possibile? Come procedere nell'adulto? Come procedere in età pediatrica? L'abbiamo chiesto al professor Marco Spada che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso di un evento che prende il nome di Super Hero e dove si è fatto il punto sulla gestione delle malattie rare, soprattutto su quella di Fabri. Professor Spada, una diagnosi precoce è sempre importante, questo vale un po' per tutte le patologie, ma perché nel caso del Fabri è ancora più importante? Nel caso del Fabri è molto importante, ancora più importante perché si parla di malattia progressiva, malattia disosomiale in cui si accumula una sostanza tossica nei tessuti prevalentemente a livello del rene e del cuore. Per cui nella storia naturale del paziente arriviamo a un certo momento di non ritorno di patologia. Per cui è fondamentale poter diagnosticare i pazienti negli prime decadi di vita, l'ideale sarebbe in età pediatrica, per poter iniziare la terapia e interrompere questo accumulo che porta a un danno d'organo irreversibile. È stato chiarissimo. Ma come si fa allora a fare una diagnosi precoce tenendo anche conto che i sintomi del Fabri sono abbastanza sfumati, non specifici e che quindi difficilmente possono aiutare in questo tipo di approccio? Ci sono due ambiti. Nell'ambito della medicina dell'adulto io suggerisco di pensare a malattia di Fabri di fronte ad ogni problema cardiaco, di fronte ad ogni problema renale e di fronte ad ogni problema cerebrovascolare, ictus e tia. Io propongo di fare lo screening sistematico di questa malattia perché più o meno l'1% di questi pazienti hanno una malattia di Fabri. E come si fa lo screening? Cosa bisogna andare a cercare? Allora, adesso siamo molto facilitati perché negli ultimi anni noi possiamo fare il dosaggio dell'attività enzimatica e dosare questa sostanza tossica che si accumula, un nome difficile, l'Aiso Gb3, direttamente su una goccia di sangue assorbita su una carta assorbente e abbiamo il risultato nel giro di un giorno o due. È molto semplice ed è assolutamente economico. E questo nell'adulto. Invece in età pediatrica? In età pediatrica l'ipotesi diagnostica non è sempre facile perché i pazienti giovani con malattia di Fabri hanno dei sintomi specifici, dei dolori addominali, dolori all'estremità che li possono portare o dal gastroenterologo pediatra o dal reumatologo pediatra. Quindi noi lavoriamo in certa relazione scientifica e assistenziale con questi colleghi affinché siano loro a mandarci questi pazienti nel sospetto. E adesso, comunque, negli ultimi anni abbiamo pensato come comunità internazionale di passare ad una prevenzione più sistematica di questa malattia proponendo i primi screening neonatali di questa malattia. Pso Spada, lei è stato un antesignano, è stato il suo centro, è stato il primo in Italia ad adottare lo screening neonatale. Come si fa, professore? Il screening neonatale si adotta lo stesso schema per gli altri screening, cioè si raccoglie la goccia del neonato dal tallone in seconda o terza giornata e si va a dosare l'attività enzimatica direttamente su questa goccia di sangue. Questo permette, permetterà l'applicazione, oggi in Italia nascono 400.000 neonati ogni anno, l'applicazione estensiva ci permetterà di fare una diagnosi precoce per i pazienti che necessitano di una terapia entro i primi 10-12 anni di vita. Ecco, però non siamo ancora al punto in cui viene fatto in maniera sistematica. Quando ci arriveremo, professore? Ma questo, noi in Italia siamo anche all'avanguardia, abbiamo altre regioni pilota che hanno avviato dei programmi, siamo un po' le punti di diamante in Europa, sono pochissimi posti nel mondo in Europa che fanno questo screening. C'è un dibattito a livello di società scientifica e a livello di ministero e noi pensiamo nei prossimi anni di poterlo inserire nei pannelli obbligatori dello screening. Ecco, perché identificare l'anomalia genetica che poi è causa della malattia, che cosa vuol dire per questi neonati? Neonati vuol dire, innanzitutto, a seconda del tipo di anomalia che andiamo a riscontrare, impostare un follow-up e nelle forme più gravi di malattia dobbiamo andare a pensare di fare una terapia preventiva che preceda di anni l'esordio dei primi sintomi specifici per poter, diciamo, prevenire completamente le complicanze renali, cerebrovascolare e cardiaca di questa malattia grave, progressiva e devastante. Insomma, garantire una vita diversa a questi bambini? Assolutamente, si può garantire una vita normale. L'inizio precoce di terapia noi pensiamo che possa veramente avere un impatto sostanziale nella prognosi e nella qualità di vita.